Alla presenza l'assessore Alfredo Vinci Guerra è stata presentata stamattina al Palazzo Iacro la non edizione della settimana della cultura che prende il via proprio oggi venerdì 20 aprile per concludersi domenica 29. Un evento che è stato possibile realizzare grazie alla collaborazione di club service, associazioni culturali, istituti scolastici e parrocchie. Un programma dunque ricco e variegato per tutti i gusti e i palati come ha sottolineato lo stesso esponente di Giunta. Il portale della cultura del Comune di Vittoria mette la nostra città finalmente al passo con le grandi città. È la prima esperienza provinciale che si ha in questo senso, è un nuovo strumento che sarà in disposizione della città e dei cittadini di chi vorrà interfacciarsi con il mondo della cultura vittoriese. Ci saranno, ripeto, degli strumenti nuovi, la possibilità non solo consultiva ma anche di interagire con gli uffici comunali per agevolare il rapporto tra cittadino e mondo della cultura vittoriese.